ciao e ben ritrovati nella mia cucina vi faccio vedere una signora mi ha chiesto un po di tempo fa sotto un video parlo di youtube sotto il video delle mele con la cannella oppure le mele cotte sotto le del video delle mele cotte voleva vedere le mele con tutta la buccia cotte al forno beh è oggi è arrivato quel momento sono facilissimi allora io le mele le ho sciacquate ovviamente non le ho asciugate e adesso vi faccio vedere e li ho messi in pentola ecco qui non so se si nota ma le mele sono ancora bagnate e quindi adesso scusate ma mi stavo muovendo le vado a mettere nel forno a 200 gradi così semplicemente e non vi ho fatto vedere come le lavo le mele penso che sappiamo fare tutti ovviamente toglieteci l'adesivo che ci mettono vicino sempre se lo trovate ok perché quello nel forno e plastica e brucia ricordatevi e niente adesso vanno in forno fino a che cucineranno come facciamo come fate a sapere che sono cotte a puntino perché le mele si squarceranno diventeranno si apriranno ma non vi preoccupate che dopo ve li faccio vedere la le mele cotte sono state nel forno 25 minuti però poi voi mi raccomando dipende dal forno qualche minuto dopo qualche minuto prima vedete le mele si devono spaccare e si devono un po colorare ed ecco le mele cotte quindi ecco a te la persona la signora che mi aveva chiesto le mele cotte sono facilissime sono buonissime e davano anche queste in ospedale a parte quelle cotte proprio in acqua allora se vi è piaciuta questa ricetta tantissimi pollici su condividetelo con i vostri amici sui social iscrivetevi al canale se non siete iscritti con la campanellina accesa se volete divertirvi un pochino e fare video risate all'altro canale e noi ci vediamo una prossima ricetta ciao 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 guardate